A questo punto, bambini, prendete la vostra scatola, la tagliate e la aprite in questa maniera. Poi prendete un bicchiere, la vostra matita, e disegnate il tondo. Lo ritagliate, io l'avevo già preparato per fare prima con un altro colore, e così avrete il vostro tondo. Potete usare, se lo volete fare più grande, potete usare un piatto, un piattino. Poi prendete i vostri cestini e li incollate, li incollate sopra tutto, così l'avete un cesto un pochino più grande, ok? Questo ci servirà come segnaposto, si può fare tanti, se ne può fare diversi, come segnaposto, come centrotavola. E buon divertimento e buon lavoro!